Da ieri hanno iniziato a preparare un percorso all'interno del comparto 5 proprio per salvaguardare tutte le piantine che sono rinate. Ed ecco le piantine rinate di cui parla l'assessore al verde urbano Giovanni Santilli. Oggi sovralluogo insieme al sindaco Masci ed alcuni tecnici al comparto 5 della pineta d'Annunziana devastata dal violento incendio del 1 agosto di due anni fa. Da ieri sono partiti i lavori per la rimozione delle piante danneggiate. La ditta ha già iniziato da ieri questo lavoro con la speranza di ultimare il tutto entro 4-5 mesi. Sarà interessata naturalmente anche la viabilità. La viabilità sì, però abbiamo già finito i lavori su via Pantini, quindi appena ultimati i lavori al comparto 5 apriremo la strada di via Pantini. Altra cosa importante che riguarda la pineta d'Annunziana ci viene illustrata dal sindaco Masci. Non siamo mai stati fermi perché per due anni abbiamo lavorato alla rinascita della pineta. I massimi esperti italiani che abbiamo interpellato ci hanno detto che la pineta doveva rimanere in sonno per due anni per fare il suo lavoro di inseminazione delle nuove piante per la rinascita naturale della pineta. Questo abbiamo fatto, ma nel frattempo faremo in modo di accorpare i comparti 4 e 5 della pineta recuperando 20.000 metri quadrati di aria che oggi è attraversata dalle macchine e che invece diventerà un ulteriore spazio di pineta a disposizione della città di Pescara e dei cittadini di Pescara.